La vittoria della Virtus Franca Villa contro il Taranto ha regalato una ventata di positività all'interno dell'ambiente bianca-azzurro che ha iniziato al meglio la nuova stagione, seppur in Coppa Italia. Chi sembra letteralmente rinato però è Pasquale Maiorino, una doppietta importante tanto quanto bella. Il primo un gol da campione vero quale si sta confermando in queste prime apparizioni quest'anno, il secondo forse ancor più bello per costruzione. Sì perché l'azione del gol del raddoppio parte proprio dai suoi piedi, è lui che recupera un pallone in mezzo al campo ed è il via al contropiede che lo stesso Maiorino poi concluderà in gol con un ottimo destro ad incrociare. Le reti però non sono soltanto l'unico segnale positivo che emerge dalla prestazione dell'attaccante Tarantino, va segnalata infatti prima di tutto una grande forma fisica finalmente ritrovata, frutto dell'intenso lavoro svolto durante il ritiro di Palena in Abruzzo insieme allo staff di Mister Taulino. E adesso la Virtus Franca Villa può sognare in grande con un Maiorino in più, ci sarà davvero da divertirsi.